La 38esima edizione dello Spoltore Ensemble sarà un'edizione ridotta ma ancora una volta con grandi nomi. Diceva anche il Sindaco in conferenza stampa, non abbiamo voluto interrompere questo appuntamento che dura da 38 anni. Sì, un atto di coraggio, di determinazione è importante perché è un'estate in cui sembrava non dovesse succedere niente, sembrava che l'industria dello spettacolo dal vivo, della cultura dovesse fermarsi. In realtà la determinazione di alcuni soggetti, tra cui lo Spoltore Ensemble, ha permesso che l'attività ripartisse e quindi ci fosse questo appuntamento con la formazione culturale delle persone e con lo spettacolo per l'appunto. Quindi una edizione molto importante, la 38esima è la mia 14esima edizione, quindi riprendo dopo qualche anno di pausa un festival che avevo diretto per 13 anni, un'edizione più contenuta dal punto di vista delle serate ma che è una base dalla quale ripartire per rilanciare poi il prossimo anno i momenti che speriamo siano migliori di quelli che ci hanno visto all'opera quest'anno. Naturalmente è il 23 questo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti dedicato alla felicità è uno spettacolo che io ho fortemente voluto per due motivi, innanzitutto perché è un'esclusiva regionale è uno spettacolo molto poco visto in Italia, quindi poche repliche, spettacolo quindi molto particolare già per questo motivo. Ma poi mi è piaciuto molto il fatto che il tema dello spettacolo fosse la felicità che è un tema assolutamente importante al quale hanno dedicato attenzione filosofi, politici, artisti e quindi mi sembrava altamente simbolico caratterizzare questo festival dedicandolo a questo tema della felicità. Il giorno precedente invece abbiamo un'altra chicca che è la presentazione dell'ultimo album, l'ultimo lavoro di Umberto Palazzo che è uno dei rocker più importanti che abbiamo in Italia con il suo santo niente negli anni 90 è stato agli apici della produzione che allora si chiamava Indie e quindi è un personaggio, un musicista importante, un intellettuale della musica che aprirà il festival con una chiacchierata con il giornalista Paolo Talanca poi la serata mi vede impegnato anche come musicista con il mio gruppo dei Medit Voices che è dedicato un po' alla formazione dei giovani.